per pochi quanti pochi un attimo un attimo buonasera a tutti un attimo c'è una sorpresa un grande acquisto e lo vediamo che io fossi in te ci rifletterei già adesso ma io non ho detto che abbiamo perso c'è veramente un perdente del cazzo vabbè ma è in protesta massimo massimo rispetto per pancini hanno litigato hanno litigato gol data pancini ora deve venire la cacarella di venire giocano solo l'uno per l'altro ma come abbiamo fatto quest'azione manfred però noi analizziamo tutti i nostri avversari molto bene occhio qua impossibile però non è un cv dove diciamo io ho proposto delle robe alcune sono piaciute altre hanno scelto gli altri ma sveglia abbiamo preso guarda il bot non ha preso guarda il bot ma quando carica bisogna andare incontro quante volte l'ho detto che bisogna uscire quando carica in quel modo se l'ha passata a me ce la facciamo penso porca puttana bellissima adesso christo che io sono occupato con le mie date che manco il presidente di farà la diatlicite strano devi fare tu ringrazio a cristo sempre sparare merda guarda guarda come perde palla per parlare dai coglione la prima palla che oddio non ce l'avevo io non ho recuperato forse dai vieni qua vieni qua andrea l'ho manfre ma che cazzo ne so sto scattando da un'ora e lo so però io adesso c'è una palla dai raga pareggiamola dai dai io ci credo cazzo bravo bravo Nabil Patrizio parte andrea penso sta a pancio come torre sta a manfredi con le differenze che noi abbiamo fatto con le assist eh guarda qua tu invece fra stai a te stesso la stavo passando non è arrivata una palla o non hai messo una palla giochi tuoi partiti la stavo passando ma vai a cagare va cambia tutto scusate ma è tutto bravissimi secondo ma che cazzo fai completamente annesessari c'è proprio un altro gioco uno due pancio da me a quattro mamma mia panciroli eh guarda voglio trovare uno spazio eh con Enzo e pancio no è un downgrade è un downgrade uno possiamo anche reggere combattu no è arrivato pure il sciscione vai ragazzi ci siamo ancora allora io metto a centrocampo chi è qua c'è torre va in difesa torre va in difesa no vai cazzo torre è un ordine no il primo che entra torre ci sono delle gerarchie torre ma non rompere torre dai su dai torre in mezzo torre forza su veloce non è che è una richiesta no no ma cos'è ma cos'è ma cos'è come fa a essere fallo nostro scusate ma cos'è torre ti devi togliere da lì oh zitto che stai giocando cesso vai di fallo Enzo ma io non posso vedere nessuna parte che stai da fare bravo mamma mia che parata gli ha fatto ragazzi il 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 Gesù bambino ci ha detto questa partita non potete perderla e allora la andiamo a pareggiare mamma mia sì bravo io la fascia raga sembra che ce l'ho che lei tu manfredo e ma non ho fatto nulla ma non è la cosa che si può fare il cinico freccia che due schede che sono li vedi proprio vicini ci sono i glitch glitch esatto ma hai visto che non ho fatto il pallone di là di là di là no no che ho fatto l'allinatore che ho vinto stai sereno a casa stai tranquillo ma porca puttana no è per te lo dico insieme a lui scusami anzi anzio mi ha regalato una porca è morto da tanto chi è il centrale del lago ha perso il pallone eh daud eh vabbè ma c'è stato una palla mi sono ritrovato la palla lì il dato la gara viene a romper il cazzo davanti alla difesa ma vengo a giocare ma che viene a giocare allora lancia si lancia mamma mia guarda come si è venuto a giocare che cazzo vuoi da me che cazzo vuoi da me se non sapete passare una palla che cazzo vuoi da me se non sapete passare una ma che cazzo di quei trequartista sei comunque raga scusami o giochiamo di squadra o non si vince domenico ma c'è una questione da merda perché enzio no ma esiste il calma è un duro lavoro ti auguro che ti dici a tutte quelle canotte del cazzo che hai che mi ha parlato con l'alba no 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 raga litor ha fatto un gol della madonna chi? aslani con l'alba eh l'ho visto anch'io la domanda ma a chi si riferiva no 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 uscite ragazzi uscite prendiamo gol a ogni azione porco zio questa è la prima che hanno fatto tutta la perdita come quella con la perdita di prima l'alba sempre guarda poi bello un'azione vedi gol dell'assist in onore di Harry che mi manca tantissimo ah lo so quel cazzo no buone 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 occhio bravo bravissimo portierò scusa Tony scusa Tony ragazzi che la possiamo vincere ragazzi la possiamo vincere stavo per chiamare la possiamo weekend weekend no no vabbè che cazzo ha fatto per dio il gelatore è più forte che cazzo fermo fermo che cazzo poi certo con tutti i soldi che c'è la ps5 potresti prendere ma maledetto ma manca la connessione c'è tutto deve contarsi no devi mettere la lan a la linea internet che ti entra nella play ah ma tutti i soldi li ha spesi per mettere quelle baroncine di legno sul muro guarda lì i faretti ah finiti tutta colpa di pagina celeste vabbè incredibile ho pure segnato incredibile è l'unico che ha fatto qualcosa che cazzo vuol dire che allora se segni sei il più forte del mondo hai fatto il gol dell'assist che te l'ho data in bocca te l'ho data eh sì in bocca quindi non devi fare neanche il mare di merda bellissimo bellissimo no ora come si vede bellissime le maglie si vede voi vedete anche che non capisce molta pratica dai 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 si capisce dai allenamento agli occhi torre torre lo fa apposta aspetta 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 niente io ce li dico prendi palla fai il cazzo che vuoi eh però mi puzza che lo stanno dicendo tutti eh poi quando lo dicono tutti ma palisca incredibile tutti i gols così prendiamo sul primo palo no ma non ci siamo mai sul primo palo dei puffi ragazzi non crossare sul primo palo e non ci si sa mai hanno risolto il bug almeno qualche palla no cazzo mamma mia magari le mezzale bisogna ma non le ha passate porca puttana io vedo bene agosto sincero al centrocampo dai se cominciamo dai c'ho 12 c'ho 12 bollini da mettere adesso li vado a mettere l'occhiale di insuccio si è finita io non ho mai risolto per una barzelletta sul cucciolone guarda come vede il gioco guarda come vede il gioco illumina illumina accende teodosic chiamatemi come? ah è teodosic dalla teodosic dalla teodosic qua comunque male qua in banca in banca in banca in banca anche qua ce l'hai anche in banca così in banca qua e via di là ancora di qua ancora di qua ancora di qua tranquillo bravo non chiamateli in 80 ci sono pancio pancio ma perché fai il tiro caricato se sei pressato è proprio una roba contro senso ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato ma lo fai sempre ma basta con sto tiro caricato tollitelo ti prego ma poi da centrocampo l'altra volta ma perché ridi Ciscio ma perché ridi nel nostro disgrazie via 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 zio porco incredibile stia giocando meglio adesso muto sciccione così sciccione ride non è preoccupato per la squadra il punto in cui mi pensali dietro per favore incredibile incredibile ma Davide è un incapace oh gol sbagliato è colpa mia è colpa mia secondo gol preso per un tiro caricato di pancio si 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 è tutta colpa mia il trequartista sto viaggiando a fianco il trequartista con i tuoi ma non è scadenza tra l'altro no ancora triennale calma eh 18 mila fino all'anno scorso voleva il real barcellona 60 milioni ma no però non la venderemo mai a 18 no ma perché ma perché Andre non la dai mai qua ma come dove qua ce l'avevi mancano proprio le basi mi hanno buttato per terra no ma la cosa bella è che noi mettiamo davanti i più scarsi ce l'avevi largo cioè c'era molto più facile ma ma sto col mirino eh ha capito sta spostando a barriè sto pezzo de merda eh muoviti di giolus il chirurgo di terra cina ma va che grazie a me grazie a me te lo spero il chirurgo te l'ha messa nel culo guarda la mia cazzo la messa silenzio sega grazie meritocratia blanca per il ride cioè io grazie non ci abbiamo la mezza alla sinistra no e allora chi è capitano sposti no non puoi spostare il bot ma no perché almeno cdc ma non puoi spostare il bot tenete i ruoli tenete i ruoli che cazzo diceva ma ragazzi qua siamo 0 a 0 sfruttiamola per cambiare mentalità dai ma che cazzo faccio a posto ma è da prima che scivoli a cazzo ma non ti cazzo a me stai facendo niente ma che mostra tutto diciamo che non parla minchia fiamma 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 Porca puttana Vabbè dai Ho anche saltato le cam Marco E' uscito più forte No ma la cosa bella di Dio No guarda che culo Però siamo pure sfortunati Eneris ha abbandonato Non è un bel gesto in un momento di difficoltà E' giusto Perché quando è il più forte Ti vuole tirar su E tu non hai zaccato il passaggio Torri Fuori No vuoi rientrare sto qua Che lavoro Incredibile Beh beh ma fai Imbarazzanti Carmine sei zitto Che carmine C'è non è E' che FIFA devi fare FIFA devi giocare come FIFA Capito Cioè devi fare Deve essere da fuori Deve fare Quelle cose lì Ti avevo messo super offensivo Cos'è che la miglietta Abbandoniamo Dai Era l'ultima Andiamo su Reddit E basta Eh beh ma facciamo prima a finire Tanto manca un minuto Perché sennò poi Ora che usciamo Ti ci paga 187 Puoi ancora schiantarti Un altro paio di volte E mi chiamo poco calcio Su pro club Ok credibili ho fatto due gol Brutta serata raga Sì sì Spogliatoio spaccato Eh niente Sì da me Ciao cane Grazie salumiere Salumiere Ciao Enzo Ciao Grazie salumiere Ciao Ciao Dio Bello Ciao Ragazzi Ciao 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 Patrizio Ciao Ciao